Ciao a Betis.it, se c'è un film che mi ha inquietato e che mi inquieta tuttora mentre mi sto accingendo a video recensirlo è Oltre a una notte di Fati Akin, è un film che ci pone dei dubbi lancinanti su noi stessi e sul nostro essere incazzati all'interno di una società moderna la protagonista è una rocchettara, cioè un grande rocchettaro in colonna sonora cioè Josh Ommi, leader dei Queens of the Stone Age in colonna sonora Fati Akin lo conosciamo, è sempre stato un regista che è andato forte con film molto ruvidi e proprio che ti lasciano il libido, è un regista infatti nella Sposa Turca che è il suo film che amo di più, ci esemena parecchio Allora, questo è un film dove ci si tocca poco e ci esemena poco però i lividi sono più dell'anima e sono terribili la protagonista è una rocchettara col pantalone strappato, una Diane Kruger che non è più l'Elena di Troia di Wolfgang Petersen, non è più una modella quasi sciampista, inarrivabile è molto più, è diventata una samurai c'è qualcosa di Grace Kelly in superficie ma questa rocchettara che invaghita di uno spacciatore di droga leggera di nascita turca e tedesco d'adozione e curdo beh, questa Katia è proprio il cuore del film, il cuore nero del film perché la vediamo andare in giro sulla colonna sonora di Josh Homme, Queens of the Stone Age come se lei proprio fosse reduce da un concerto dei Queens of the Stone Age è un film che ti dà proprio quel sapore di rock e di donne così, ne ho conosciute, ci sono bellissime, vanno ancora ai concerti, si scatenano anche se non sono più delle ragazzine Katia, diciamo che all'inizio del film la troviamo appunto in un momento in cui già c'è stato molto nella sua vita qualcosa di molto interessante, cioè l'amore per uno spacciatore e la pazienza e anche il reinserimento in società di un uomo che tu ami che diventa anche un padre quindi diciamo che Katia ha vinto tantissime battaglie appunto non è più l'Elena di Troia, è stata in battaglia non è più l'oggetto del contendere ma è una contender che ha vinto e allora il film di Hacking ci mette in crisi, io non posso dirvi niente perché è veramente una sorta di esplorazione della voglia di vendetta che di solito siamo abituati a vedere al cinema con noi masculi ultimamente abbiamo molto riflettuto, siamo tornati a riflettere su questo concetto con Il giustizia della notte di Eli Roth paragonandolo al giustizia della notte di Michael Wiener del 74 qua siamo abbastanza dalle stesse parti lei ha vinto la Palma d'Oro come migliore attrice al Festival di Cannes ed è giusto perché Diane Kruger ha avuto una carriera interessante in crescita e secondo me crescerà ancora di più da quando appunto era la fatalona Elena di Troia poi comunque Autoreverse poi comunque Bastardi senza gloria e quindi è un'attrice che sta in un ottimo momento di carriera e in questo film sgrana gli occhi, ti guarda con durezza serve Diane Kruger per trasmetterti una possibilità di violenza che non tante attrici sanno veicolare lei la sa veicolare perché a un certo punto Fatia Kinn le fa cambiare lo sguardo lei proprio ha questo sguardo che è sgranato ed è molto bello quando accade lo fa 3-4 volte nel film è un film terribile ragazzi è un film terribile che racconta che ha 3 atti che ha 3 stili di ripresa che ha 3 modi di affrontare il problema uno all'interno della famiglia uno all'interno delle mura borghesi un altro all'interno delle mura della società e quindi un tribunale e il terzo atto è invece non ci so più muri c'è il mare com'è profondo il mare e com'è profondo il male il male che c'è in noi il male che c'è fuori di noi l'inquadratura finale è incredibilmente bella oh! non si è capito niente ma per una volta ha fatto il bravo critico perché è un film che dovete vedere magari senza sapere nulla se ne è molto parlato lei ha vinto la Palmadora al Festival di Cannes come migliore attrice il film ha vinto il Golden Globe come miglior film straniero agli Oscar non è entrato nella cinquina un film molto disturbante un film molto inquietante che devo dire dimostra anche la perizia di questo regista che sembra che non faccia niente niente di eclatante in realtà poi ti scava dentro con una tecnica di regia piuttosto sopraffina cioè è un bravo regista è un bravo regista perché proprio appunto veramente la mano registica è invisibile tu appena l'hai finito di vedere pensi vabbè in fondo e poi invece vedrete che col passare dei minuti certe inquadrature certi occhi di Diane Kruger certi sguardi di lei la colonna sonora di Josh Homme che assume tutto un significato rock perché spiega molto bene secondo me l'interiorità del personaggio di Katia di Diane Kruger che è una che andava con certi di Winds of the Stone Age sicuro ecco tutta questa compattezza mi ha fatto molto amare oltre alla notte di Fatih Akin un film che non può non farci pensare al giustizia della notte con loro le signore al posto di noi i maschi ciao betteist